Ti andavi a scuola? Andavo a scuola per i campi qua Da una parte a Cartelma e da una parte a borsa con 10, 15, 20 nuovi e tanti troviamo il zucchero Ti portavo a casa del formaggio? O perché servia? Poco, che se c'è pa se puoi dire giornaliero o se no due volte a settimana Prima di scuola ti portavi dove? Andavo a scuola con la borsa e tutto passavo da avanti a bottega che era sempre verta che ora era e dopo tornai andrei a fare la spesa portavo a casa quello che mi serviva e qui era verso un moto e mezzo un moto, un quarto, io ero in casa così era la vita a piedi, i campi, i piedi